ciao a tutti eccomi qua anche oggi è una giornata molto calda sono quasi le 6 ho stirato anche oggi adesso vi faccio vedere tutto il disastro che ho combinato e niente voglio mettermi un po a posto adesso vi faccio vedere il casino che ho guardate qua ho stirato tutto eccomi qua sono cambiate che così sono più comodo e incomincio a pulire passo con lo swiffer non passo con l'ospera polvere così faccio prima anche perché sono già le serie faccio dei casini evitiamo ho le finestre aperte dappertutto si accumula tantissima polvere aria condizionata io non accendo perché non riesco a stare con l'aria condizionata accesa preferisco aprire le finestre ecco piuttosto patisco caldo però aria condizionata non mi piace in effetti si accumula tanta polvere se faccio vedere allora prima di cominciare a spolverare vorrei parlare dei panni che qualcuno me l'ha chiesto un disastro i panni è un disastro io di solito uso i panni in microfibra ne ho provati di tanti tipi oggi ho comprato degli altri adesso ve la faccio vedere allora ho comprato questi qua questi qua panni in microfibra di a casa dico anche quello cosa costa questi qua costa 3 euro 10 l'ho comprato alla coppia ma li trovate secondo me anche in altri supermercati allora ho comprato questo e poi ho comprato anche questi qua i panni Bettina qua c'è solo un panno qui ce ne sono 3 4 5 faccio ne sono 5 e questo invece viene 1 29 allora e li ho visti anche degli altri però non mi piacevano c'erano anche quelli di sport ex che io l'ho già provate che dopo un po mi vengono dopo un paio di lavaggi vengono tutti i palini sono brutti ecco adesso voglio provare questi qua infatti oggi proviamo questi qua perché sono più sottile già se questo che questo mi sembrano molto più sottile mi piace di più allora questo è quello di Bettina che così quell'altro invece fatto così proviamo proviamo poi bisogna vedere come sono dopo i lavaggi ecco dopo i lavaggi si vede subito come sono perché però dal tatto così mi piacciono già di più perché sono più sottile rispetto a quell'altro allora invece il panno quello che uso per i pavimenti sono sempre di Eurospin che io mi trovo benissimo sono quelle verde ecco io mi trovo bene con quelle lì e continuo a usare quelle lì ecco per i pavimenti invece qua invece non riesco a trovare quelli ingiusti proviamo oggi proviamo questi qua poi vediamo dopo vi dirò dopo i lavaggi come diventano però già già così mi piace già di più basta chiacchiere allora ci ho messo l'acqua con un po' di detersivo e la Bettina proviamo la Bettina direte ma questa è una cretina allora già così la Bettina mi piace proviamo sì la Bettina mi piace dopo la pagina non so se mi piace ancora però sì dal dal fatto dall'impatto mi piace mi piace abbastanza la Bettina sono le sei un quarto eh non dico le palle ragazzi forse era meglio che non parlavo non facevo tutte queste figure qua è vero quindi non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi dico già così, da lì, da come già risciacquando dentro la bacinella, sembra una cosa incredibile. Vabbè, qua c'è già un po' di polvere, però... Sì, promossa, l'abettino promossa. Dopo proviamo anche con l'altro panno in cucina invece. Adesso puliscono i pavimenti. I pavimenti, l'avevo già detto prima con cosa uso, però così da spolverare mi sembra ottimo. Poi vediamo che la raggiungo spetta. I pavimenti invece con il panno di Eurospin che vi ho già fatto vedere tantissime volte e mi piace tantissimo. E compro solo questi qua praticamente. Dentro l'acqua ci ho messo un po' di ammonierka con un po' di detersivo per i pavimenti e basta. Adesso avevo i pavimenti. Adesso avevo i pavimenti. Adesso avevo i pavimenti. Adesso avevo i pavimenti. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.